Cari turisti di tutto il mondo, cari amici cinesi, sono Macco Sambuto, agrigentino shock e sindaco di questa disastrosa città. Quella che vedete alle mie spalle è la Valle dei Templi, patrimonio dell'UNESCO, talmente patrimonio che anche gli agrigentini pagano per vederla. Capito la magagna? Agrigento e tutta la Sicilia sono autentiche sberle per l'Italia e per l'Europa. Vi offriamo traffico, allegamenti, mare sporco, strade distrutte e locali chiusi a mezzanotte. Un mix unico al mondo. Venire in Italia e non visitare aggrigendo e la Sicilia è impossibile. Vi aspettiamo numerosi, dalla Cina come dal resto del mondo. Amici cinesi, invadeteci, forse ci salveremo. Rain Man, non so, lo vedrò. Di chi da fare non ho. One man che fa un muffone e si cala lo champagne.